Leporano, festa dello sport. Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. In questa estate abbiamo vissuto varie manifestazioni, ha organizzato vari eventi relativi allo sport, ma questa sera ovviamente è il clou, perché è davvero bello vedere l'intero comune, le strade principali, che si trasformano in ring, che si trasformano in luoghi dove vengono praticate le varie discipline sportive, tutte o quasi? È una vera e propria festa questa sera, dove bambini, grandi, ragazzi, anziani, tutti, ce n'è per tutti i gusti, possono praticare qualsiasi tipo di sport, ci sono 50 attività diverse, si sono trasformati, come dicevi, le strade in ring, in campi, in palestre vere e proprie. Come abbiamo detto tempo fa, l'obiettivo di questa manifestazione era proprio quello, dimostrare l'unione che può dare lo sport, perché queste palestre non sono tutte del luogo, vengono anche dai paesi limitrofi e noi vogliamo proprio questo, che lo sport deve essere unione, che deve essere al centro della nostra vita, perché lo sport è fondamentale per tutti noi, è una festa vera e propria, vedete, si vedono gente e bambini dappertutto e per me è un orgoglio, ringrazio tutti i collaboratori, l'associazione Vivi e lo Battereo di Cattaneo, ringrazio l'amministrazione che ha creduto in me in questo progetto, il sindaco che fin dall'inizio mi è stato dietro con i suoi suggerimenti, mi ha aiutato, si è sempre fidato di me, è stato veramente tutto bello dall'organizzazione. Una vittoria di equip, esatto, una vittoria di squadra, questa sera abbiamo vinto tutti, ha vinto Leporano, perché questa è la dimostrazione, così si vince, restando uniti.